Pagano sempre gli stessi, mentre i soliti noti del fettore alimentari, le grandi catene e le lobby dell'e-commerce continuano ad arricchirsi. E quanto sostiene in un comunicato stampa la Confesercenti di Salerno, per il presidente Raffaele, esposito ad ogni DPCM, l'esercito dei nuovi poteri, si arricchisce di soldati. L'antidodo è sempre lo stesso, dare immediate risposte alle imprese e alle famiglie attraverso risorse ed una politica vera del sostegno. Sulla stessa linea anche la Conf Commercio che ha organizzato un sit-in di protesta. Il problema è che attribuire un colore ad una regione non risolve i problemi e il commercio in questo momento sta soffrendo tantissimo, soprattutto il settore moda, perché gli acquisti vengono fatti sei mesi prima. Noi già eravamo in ginocchio per tutto quello che era accaduto nel corso della prima ondata della pandemia, perché avevamo dentro tutta la merce estiva. Sta accadendo la stessa cosa adesso con questa seconda ondata della pandemia e naturalmente questo comporta dei grandissimi problemi, perché anche nella contrattazione che c'è con le aziende per cercare di spostare i pagamenti, naturalmente le aziende rispondono a tutti noi che noi siamo aperti, ma essere aperti in una città deserta con eventi, cerimonie, bar, ristoranti che naturalmente sono chiusi, questo significa avere un calo dei fatturati che in questo momento è vicino all'80%. Lei tra l'altro ha un osservatorio privilegiato perché gestisce un'attività anche in costiera amalfitana. Ad Amalfi quindi ha bene, percepisce bene anche che cosa ha significato sul fronte delle presenze turistiche. Ottobre per la costiera amalfitana è sempre stato un mese felice. Sì, tra l'altro il problema è proprio questo, quello di cominciare a calibrare gli interventi rispetto a quelle che sono anche le esigenze vere di chi sta in prima linea. Avere un negozio stagionale, ad esempio, ha delle caratteristiche e delle peculiarità completamente diverse rispetto ad un negozio che lavora tutto un anno in città. I negozi che sono in località turistiche importanti come Amalfi hanno sofferto ancora di più perché naturalmente è mancato l'aspetto più importante che è quello della presenza degli stranieri con la chiusura delle frontiere. Quindi queste attività sono state penalizzate ancora di più e quello che noi chiediamo è di rientrare in un piano di contributi, di ristori, in un credito per i fitti, cioè di avere delle misure che tengano conto della realtà dei fatti. La realtà è ben diversa dai colori, la realtà ci dice che il commercio a Salerno come in altre città della Campania è completamente in ginocchio.